Saltano le turbature a Sorbia, allagamenti ed emergenza idrica. Con la crisi idrica in atto nel cantiere di Sorbia, piove sul bagnato, creando ulteriori disagi e ritardi al completamento dell'opera. Nel fine settimana appena passato, il cantiere, così come la sottostante e via Il Vignale, sono stati allagati per via della rottura di una grossa tubazione della condotta del serbatoio della Sorical, che serve parte del centro abitato e la zona rurale di Contrada Pirivoglia. Pozzi che si trovano nella parte alta della città, a poche centinaia di metri, dove sono in corso i lavori. Lavori che, detto in perinciso, stanno procedendo a rilento e con notevole ritardo rispetto alla tabella di marcia. Oltre a generare disagi per gli automobilisti, sta mettendo a dura prova la pazienza e i nervi dei residenti che hanno le abitazioni lungo la Bratella, che collega la zona dello svincolo della trasversale delle Serre, area ancinale, con la zona della Casa della Salute. Oltre a Sorbia, nei giorni scorsi, si era intervenuto con i tecnici della Sorical e le ditte specializzate che lavorano per conto del comune in diverse zone come via Filangeri, Contrada Romano, dove si sono verificate le segnalazioni di mancanza d'acqua nei rubinetti di casa. E' proprio sulla carenza idrica, alla vigilia del Consiglio Comunale, che si terrà proprio questa mattina è scoppiata la polemica tra alcuni consiglieri della maggioranza di Ripensiamo Chiaravalle e il gruppo di opposizione Chi c'è. Il gruppo politico, attraverso il consigliere Giuseppe Rauti, in seguito alle dichiarazioni ritenute, offensive e sgarbate della consigliera Isabella De Masi, postate via social, ha chiesto le immediate dimissioni della collaboratrice del sindaco Domenico Donato. Dichiarazioni offensive e sgarbate, aggiungiamo noi, ha rimarcato Giuseppe Rauti, evidentemente rivolte a quei cittadini che hanno avuto solamente la colpa di lamentarsi di alcuni prolungati disservizi. Per questo motivo abbiamo chiesto le immediate dimissioni della De Masi dal Consiglio Comunale. Poi il gruppo aggiunge, questa maggioranza non ha mai mancato di nascondere le sue indole, rancorosa e isterica, poco incline al confronto e allergica alle critiche. Una mancanza di serenità che spinge gli amministratori che pare vivano in una bolla a respirare la realtà di un comune travolto dall'incuria, dall'assenza di idee, da cantieri infiniti e da scelte sbagliate. I motivi sono riconducibili al fatto che di fronte alla carenza idrica in via Filangeri, che si prolunga per diverso tempo, la consigliera di maggioranza ha più riprese assessore, addirittura la prima volta con una delega importante come la Sanità, ma senza per la verità aver rilasciato alcun ricordo del suo mandato, ha pensato bene di scrivere delle frasi allusive, evidentemente rivolte ai cittadini, che si lamentavano della situazione. E postando altresì una comunicazione del comune di Catanzaro sui disservizi idrici nella zona sud della città, come per dire, tutto il mondo è paese. Anche in questo Isabella De Masi ha dimostrato ancora di più la sua inadeguatezza al ruolo istituzionale che ricopre, non conoscendo l'altavico e gravissimo problema idrico della zona meridionale della città di capoluogo, che di certo non si può prendere ad esempio come condizione usuale o ideale, e che per risolvere lo stesso comune di Catanzaro dovrebbe a breve incassare un cospicuo finanziamento. Grazie.